Siamo oggi a Savignano sul Rubicone dove inaugura la Casa dell'Acqua. Presidente, un'iniziativa a segno che l'acqua del rubinetto è buona ed è da bere. Sì, è un'iniziativa che facciamo insieme a ERA, ai comuni del nostro territorio e ad Adriaticacque che contribuisce alla realizzazione e che tende appunto a promuovere l'uso dell'acqua del rubinetto che è un'acqua che è controllata quotidianamente, quindi è un'acqua buona, utile all'organismo umano e che consente anche di evitare sprechi e soprattutto inquinamento perché le bottiglie di plastica che si comprano al supermercato poi vanno smaltite e creano rifiuti e quindi è un'iniziativa appunto che tende a tenere insieme le esigenze delle persone con l'esigenza anche di tutelare l'ambiente. Entriamo allora nel dettaglio, come funziona questa Casa dell'Acqua qui a Savignano? Questa è una Casa dell'Acqua che offre un servizio per la cittadinanza, l'erogazione dell'acqua risa è gratuita in relazione al tema acqua pubblica e l'acqua frizzante viene erogata al litro con un contributo di 5 centesimi, un contributo che serve unicamente all'adriatica acqua per sostenere i costi per la manutenzione. Allora Sindaco, oggi l'acqua in comune è soddisfatta? Molto, perché questa fra l'altro è l'acqua del Sindaco e quindi mi fa molto piacere. È un'inaugurazione a cui tenevamo molto perché volevamo veramente la presenza di questo elemento all'interno della nostra città.